Nigeriano aggressivo in manette, l'uomo, un 24enne, era stato tra i protagonisti delle risse di quest'estate in Campomarzo a Vicenza. Fermato per un controllo da una pattuglia di militari dell'operazione Strade Sicure, il nigeriano ha preferito darsela a gambe, ma avvertita via radio la vicina camionetta è stato bloccato. Il 24enne però ha opposto resistenza scagliandosi contro i militari, ferendone uno di loro sul posto. E' però sopraggiunto la volante che, verificati i precedenti, lo ha arrestato. Grazie a tutti.